oggi qui all'idroscalo di milano un grande evento ci aspetta in collaborazione con le giacche verdi coloro che presidano questo fantastico spazio milanese buongiorno oggi siamo qui con le giacche verdi con noi giuseppe scabioli presidente regionale buongiorno giuseppe tanto vediamo questi bellissimi cavalli qual è la vostra attività la nostra attività principale il controllo dei parchi controllo ambientale questo è quello che facciamo nella normalità quindi andiamo nei parchi compiliamo dei rapporti dati alla forza dell'ordine per lo stato ambientale poi facciamo molte attività lavoriamo sulla ricerca delle persone scomparse facciamo parte della protezione civile a cavallo sempre chiaramente quindi tantissime attività facciamo molto sociale insegniamo abbiamo una scuola di equitazione qui oggi sarà una giornata fantastica grazie anche alle persone come giuseppe grazie mille grazie 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 e finalmente impegnatissimo super impegnato sempre come al solito qua con noi angelo marra colui che ha organizzato questa fantastica giornata ciao angelo ciao ciao a tutti oggi una bellissima giornata tante istituzioni direi un grande successo vero angelo sì sì diciamo che questa iniziativa che continua un percorso ormai di diversi anni anzi e anche grazie alle forze dell'ordine grazie al trofe interforze che abbiamo fatto a san silo il 3 giugno siamo riusciti a a donare quest'altro defibrillatore a settembre avevamo già regalato un defibrillatore a liroscalo bene angelo allora noi ti seguiremo sempre perché per noi è un un onore un piacere essere i tuoi eventi perché comunque oltre avere quell'aspetto diciamo un po istituzionale comunque sono al servizio dei cittadini e comunque il defibrillatore diciamo che è uno strumento oggi essenziale direi vero è una delle prime cause di mortal mondo colpisce solo in italia oltre 65 mila persone è l'unico mezzo che può permettere di salvare una vita in situazioni abbastanza critiche quindi allora ringraziamo angelo ovviamente seguite acquas sempre su tutti i social perché le iniziative che organizza angelo marr sono veramente delle iniziative incredibili grazie e dopo aver appreso tutti i segreti delle giacche verdi per tg beach andrea evans grazie a tutti i segreti delle belle 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 belle